Voglio raccontarti una storia, una storia di passione e amore per la nostra città, Milano. Milano è una città coraggiosa che non si ferma. Per farla vivere tutti noi abbiamo contribuito, abbiamo costruito aziende e abbiamo dato lavoro. Milano oggi è il centro produttivo più importante d'Italia e la sua forza siamo tutti noi uniti. Da oltre 20 anni il Centro Studi Grande Milano raccoglie le eccellenze imprenditoriali che grazie alla carta dei valori si sono contraddistinte economicamente ed eticamente. Abbiamo creato un network di 1500 soci e imprenditori legati al territorio. Una rete che è motore del cambiamento e spinge Milano quotidianamente verso nuovi obiettivi. Sei anche tu che stai guardando questo video. Sei uno di noi. Sei anche tu. Ami Milano. Ti aspettiamo. Grazie. Grazie a tutti.